Benvenuti nella van life, rust life questo, piccolo buco nel vano batteria, un buco dove erano presenti gli scari Situazione attuale della grondaia, crackers Diventerai un signor van Siamo pronti questa sera per comprare i primi pezzi del camper Continuano i lavori di smontaggio, sedile della guida rimosso, sedile passeggero rimosso Qui avanti sto togliendo l'antirombo in modo da controllare la lamiera sotto E poi il grande problema L'idea è quella di alzare il tetto e lavorarci Occhiali, mascherina, flex E si va di pulizia Quello che vogliamo fare è togliere il perimetro che è stato messo rivettato Alzare il tetto in vetro resina e sistemare con dei scatolati tutta questa ruggine Vediamo cosa c'è dietro Situazione attuale della grondaia Un crackerz Per il perimetro Saccato completamente dal telaio Smontiamo il parabrezza del camper Non è difficile ma ci vuole tanta pazienza La guarnizione si dovrebbe smontare dall'interno L'unica cosa da fare è portare questa parte giù fuori Farlo uscire praticamente Intanto si comincia già a vedere un bel po' di luce Qui era un po' più lenta E sono riuscito a partire Dal centro non riuscivo Un nuovo buchetto Questa è una dimostrazione che lo stucco Va bene per piccole parti Ma non per riparare la ruggine Qua già c'era una riparazione Tutto stucco Il stesso buco anche lì Identico Siamo pronti questa sera per comprare i primi pezzi del camper Per l'occasione ho selezionato il pure preferito della vita Liquore semi di mela Un cocktail Un cocktail improvvisato Come avrete visto nei video precedenti C'abbiamo qualche problemino nella zona anteriore del camper Abbiamo deciso che non compriamo tutto il perimetro Ma anche lo facciamone con uno scatolato Però per quanto riguarda invece la zona sotto il parabrezza Abbiamo pensato di comprare i pezzi Cerchiamo di capire che cosa offre il mercato Che troviamo, quanto costano E valutiamo se effettivamente vale la pena Comprare i pezzi nuovi o comunque usati Ma messi meglio di come ce l'abbiamo noi attualmente Eccolo L'ultima volta che abbiamo fatto acquisti così davanti al computer Abbiamo comprato 250 euro di fotografia della Magnum Più 50 euro di Togana Una foto Non me la facciamo vedere Per vergogna proprio Allora I pezzi che ci servono Eeeh C'ho fanno davanti Vedo che i pezzi da acquistare sono molteplici Ho pensato che ve li farò vedere nel dettaglio nel prossimo video In modo che io possa sia inserirvi il costo E sia dove li abbiamo presi In realtà potrei farlo anche adesso Ma il video mi verrebbe troppo lungo E io mi sono scocciata di montarlo Perciò ci vediamo la prossima volta Spesa fatta E saluto a tutti i cimocciandoli